A destra una strada appena asfaltata da poco, a sinistra un vero e proprio campo da battaglia tra buche, cedimenti e zone pericolose. Siamo al confine tra la strada Cerbara e località Sant'Angelo e Feriano, tra i comuni di Terre Roveresche e Fano. Qui i residenti da diverso tempo chiedono a gran voce all'amministrazione fanese di trovare una soluzione per le numerose buche, se non voragini, presenti su tutto il tratto stradale. La strada è tutta rotta, c'è gente che si è fatta male, è già caduta, se aspettiamo che si fa male qualcuno ancora di più aspettiamo, poi di chi sarà la responsabilità. Io adesso vado anche dai carabinieri a fare una denuncia, poi se succede qualcosa vediamo di chi è la responsabilità. Non è possibile, non si chiede di fare l'asfalto perché non lo fanno in città, figuriamoci qua, un asfalto a freddo. L'altra volta hanno mandato su quattro ragazze che non sanno niente, sono incompetenti ma non è colpa loro, ce li mandano. Mi sono fermato, nessuno controlla i lavori, gli ho detto di mettere più catrame, mi hanno detto no perché non rientriamo con le spese. Cioè il primo temporale che fa se la buca è chiusa con due pallate di ghiaia e una spruzzata di catrame la riporta via. Ci vuole un asfalto a freddo, catrame, sassi, catrame, sassi e rullo che la pressa è fatto. Cioè costa meno che chiudere le buche. Fino a due anni fa, sempre chiudendo le buche, facendo un lavoraccio, però almeno passavano. Adesso sono due anni che non passano proprio, intanto. E ci vorrebbe che ogni tanto mandassero un tecnico a vedere. Noi chiediamo che lo facciano, basta che lo vedano. Se lo vedono, prima o poi si vergogneranno qualcuno. Sto parlando di amministrazioni, destra, sinistra, tutti chi è passato della zona di qua si sono tutti disinteressati. A lamentarsi, oltre ai residenti, sono anche i titolari di attività presenti sul posto. Tre anni che stiamo facendo le segnalazioni, c'è un'attività, abbiamo i rifornitori che rinunciano a venirci a rifornire. Giusto, il sindaco ci ha detto, abbiamo più entrate, più strade. Certo, c'è anche quella là di camminate, ma noi da Fano dobbiamo passare camminate. Ma fino alla grotta è sfaltata. Grotta in poi, per venire qua, disastrata. Ci sentiamo proprio, guarda, sembra che là è la classe A e noi siamo la classe B. Chi abita in quella zona, invece, ci tiene a sottolineare che tutte le strade che rimangono sotto il comune di Terre Roveresche sono state asfaltate, mentre quelle sotto Fano no, come appunto via Ferriano. Anche la zona Terre Roveresche là è asfaltata a metà. Qua, strade disastrate, le macchine sono un disastro. Sempre dai carrozzieri siamo, gomme che si spezzano, segnali, segnali, ma non risponde nessuno, tre anni. Cioè, siamo all'esasperazione proprio, guarda, il sindaco dice sì, provvederemo, provvederemo, ma ancora è niente. E noi non ne possiamo più, guarda, credimi, anche proprio per l'attività in sé per sé. Si fa 4-5 viaggi al giorno. Guarda, siamo proprio sfiniti. Speriamo che questa sia una segnalazione buona che ci porti fortuna.